Il primo del colore in questo momento per la prima posizione commentaria dell'Aroben 70.3 di Pescara Era il 1978 quando dei Marines alle Hawaii ci sono messi a parlare a decidere quale fosse la gara più difficile in seconda di moto, in seconda di corsa o sulla maratona hanno detto sai una cosa, conosciamole tutte e tre e vediamo chi è il più forte e adesso tra le città nel mezzo alle ali di Polla, di Pescara, contro Pescara Pescara, 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 Pescara Pescara, Pescara, Pescara Pescara, 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 Pescara Grazie.